La ricerca è il primo passo verso il progresso. Ma chi sono e dove lavorano gli oltre 50.000 ricercatori italiani nel mondo? Ce li immaginiamo chiusi nei loro laboratori, occhini sui libri in biblioteca o ancora assorti nei loro pensieri in cerca di una illuminazione. Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo, è il podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air, in cui raccontiamo le loro storie. Storie di partenze, di studio, di una grande passione, di intuizioni geniali e di paziente fiducia. Raccontiamo che cosa stanno ricercando e come e in che modo la loro ricerca potrebbe cambiare il nostro futuro.